Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale traduzione canzoni e canzoni spiegate e bentornati al colore che guardano il video per la prima volta di questo canale che si occupa di musica e traduzione di canzoni per imparare anche altre lingue. In questa puntata continuiamo il nostro discorso di traduzione di canzoni latine e in questo caso parliamo della Mami, della regina insieme a Shakira, quella gente lì, della canzone latina Urban. Lei è ancora più reggaetonera e proprio anima reggaeton, la colombiana Karol G, che ha un successo clamoroso, ha vinto tutto quanto ormai, non gli manca più niente da vincere, è tipo Real Madrid. E niente, questa canzone che andiamo a tradurre è uscita il 22 aprile del 2022, che si intitola Provenza, che Provenza non riguarda però la regione francese, ma riguarda un quartiere di Medellin dove lei è nata. E' un quartiere, diciamo, dove c'è un po' di movita, dove è molto caratteristico, come possiamo dire, testaccio a Roma. Ecco, siamo a quei livelli lì. E quindi ha intitolato una canzone perché lei viene da quel quartiere e dice che da tanto tempo che non sta lì, che vorrebbe incontrare una persona perché vuole uscire, che da tanto non esce, e fare anche, diciamo, sesso, fumare erba, perché lì comunque si trova, e di approfittare appunto di tornare ad essere, diciamo, adolescente, dove ha vissuto la sua adolescenza, dove noi abbiamo anche vissuto nei quartieri delle nostre città, a volte ci farebbe, cioè, la nostra testa vorrebbe tornare indietro nel tempo. Questa canzone appunto rappresenta una nuova libertà, un luogo che ti invita a tornare ai vecchi tempi e rivivere quei ricordi indimenticabili, con serenità, amore e inclusione. La ripetizione della frase Papi non sparchiamo è la menzione di azioni come bere e ascoltare le get on suggeriscono il desiderio di sfuggire alla routine e immergersi in un'idea di esperienza sensoriale ed emotiva. La canzone ha dei suoni molto afro-latini, molto elettronica. Appunto, come abbiamo detto, la Provenza è un quartiere di Medellin che ha una sua personalità e un'impronta. Si distingue per la sua estetica, armoniosa e il senso di appartenenza dei suoi residenti e commercianti. La Karol G, conosciuta come la Bicciota, ha realizzato quello che pochi altri hanno fatto esibirsi su mega parchi, collaborare con artisti famosi e riempire gli stati di tutto il mondo. Ma cosa vuol dire Bicciota? Bicciota deriva da Bicciote, un gergo portoricano per indicare un boss della droga. Un pezzo grosso, diciamo. Lei invece lo ha declinato al femminile con sfumature positive. Dentro ognuna di noi esiste una donna super sexy, emancipata, forte, determinata. E Bicciota, appunto, non è soltanto una parola. Ecco, questa è, diciamo, la premessa per andare a tradurre questa canzone che, comunque, è importante anche per la sua discografia. Inizia dicendo Quindi tesoro, che cos'altro, cos'altro? Aserato vuol dire da un po' di tempo, rato è un po', un pochino di tempo, che non so niente di te. Perché, come immagino, le strade si sono divise e quindi ognuno è andato per la sua strada e quindi da tanto che non si sa niente di te. Staba con alguien, però ya estoy free. Io ero con qualcuno, penso fidanzata, così, però ora sono free, sono libera. Puesta pare vivir, viejo a tiempo, no salgo a se tiempo. Quindi puesta, poner vuol dire mettere, porre, preparare. Quindi, in questo caso, possiamo dire come pronta, però preparata per rivivere i vecchi tempi. Non esco da tanto tempo. E tu dimmi dove sei, dove stai. Papi, non perdemo, non parchiamo e lo prendemo, pala seca al gobebbemo e qua non nos imborracciamo. Una delle che ton ponemo e nos vamos a donde nos podamos chiedere. Questo va, l'è tutto insieme. Allora, Papi è sempre un nomignolo. Papi vuol dire, non so, non c'è un corrispettivo italiano, vabbè tesoro dai. Noi ci perdiamo, noi parcheggiamo e prendiamo qualcosa da bere per la sete. La secca è la secca quando hai sede, no? E quando hai proprio la gola secca, prendiamo qualcosa da bere e quando nos imborracciamo, quindi noi quando ci ubriachiamo, una de reggaeton ponemo. Mettiamo qualcosa di reggaeton, mettiamo reggaeton e nos vamos a donde nos podamos chiedere. E andiamo dove noi ci possiamo amare, nos podamos comer, noi ci possiamo mangiare, possiamo fare chic to chic. Che malo puede pasar? Quindi che cosa può succedere di brutto? Che nos vaia mal? Che cosa c'è che non... Che ci può andare male? E stoia fuera, io sono fuori, sal, sali, esci, esci. Quindi sono fuori. Tenemos cosas pendientes por repasar. Pendiente vuol dire qualcosa in sospeso. Quindi abbiamo qualcosa in sospeso per ripassare, per appunto ripassare questa cosa che era rimasta in sospeso. Tu eri un polvito, difícil de repasar. Allora un polvito è una sveltina. Quindi abbiamo, tu sei una sveltina difficile da rimpiazzare. Non so se ti convenza, non so se ti convince. Nos damos un rosecito por Provenza. Facciamoci un giretto per Provenza. E se la cosa si pone tensa e mi cama la recompensa. E se il rapporto si va ad essere teso, questo rapporto, io ti do la mia recompensa a letto. Ecco, quindi va dritta verso il gol. O viceversa, perché lo piensas. O viceversa, perché lo pensi. Passiamo por el barrio por yerba. Quindi camminiamo per il quartiere per l'erba. Per cercare erba da fumare. Ponlo e la hoca, pa' che si disuelva. Mettilo nella hoca e l'arghilea. Pa' che si disuelva, risolvere, vuol dire dissolvere, sciogliere. Quindi mettilo nell'arghilea così che si può sciogliere. La chimica, totavia, si conserva. E però la chimica, cioè l'essenza, il risultato finale si conserva. Io te lo hago rico pare che vuelva. Io te lo renderò ricco perché tu ritorni. Aunque, magnana me vuoi. Anche se domani me ne vado, approvesciami che a chi stoi. Quindi approfitta di questa occasione perché io sono qui. Questa fatti, messa qui apposta per te, pronta per te, sono qui per te. Por esso te scrivi. Per questo io ti ho scritto. Ecco, questa è la traduzione di Provenza. E quindi vi invito ad ascoltarla attentamente a tutto volume. In modo che si possa capire anche una parola in più di spagnolo. E mettere un mi piace se vi è piaciuto il video. E di iscrivervi al canale traduzione di canzoni e canzoni spiegate. Per continuare insieme questo percorso di traduzione di canzoni. In questo caso spagnolo, ma anche in inglese. E altre anche lingue e anche in italiano. Per capire e commentare il retroscena che hanno spinto questi grandi artisti a scrivere questi grandi capolavori. Che hanno fatto la storia della musica e faranno la storia della musica nazionale e internazionale. Quindi vi ascoltate con la traduzione che adesso la conosciamo insieme. L'abbiamo conosciuta insieme. E della Mami Carol G con Provenza. Quindi mettetela a cannone e ballate insieme a chi volete voi. Quindi con Carol G Provenza per il momento è tutto. Alla prossima. Ciao.